Nome? Polcinski. Nome e cognome, per favore. Krzysztof Polcinski. Polcinski Krzysztof. Krzysztof. È lo stesso. Segno? Il suo segno zodiacale, Polcinski. Dice sul serio? Le sembra che stia scherzando? Lo sa. Cosa? Il mio segno. Non mi pare. L'ho detto prima, non l'ha sentito? Di che segno è, Polcinski? L'ho già detto. Allora lo ripeta. Ascolti, Polcinski. Certo. Certo cosa? Niente. Stia attento a quello che dice. Questo non è un gioco. Esatto. Lo terrò a mente, grazie. Polcinski? Mi scusi. Anno di nascita? 1969. Luogo di nascita? Milano. Genitori italiani? Mia madre. E suo padre? Anche mio padre. Anche suo padre? Sì. Pavel Boguslav Polcinski. Come fa a non sapere la nazionalità di suo padre? È italiano. Non mi sembra così convinto. Perché ha due nazionalità. Ah. Italiana e norvegese. Norvegese? No, scusi, francese. Norvegese o francese? Tutte e due. Italiana, norvegese e francese? Capisce perché mi confondo. Ascolti Polcinski. Voglio essere chiaro con lei. No, no, non si disturbi. È bene che lei lo sappia. No, sul serio, non fa niente. Lei è una persona disdicevole. Lei, Polcinski, è una persona profondamente e irrimediabilmente disdicevole. Vabbè, adesso non esageriamo. Non è per cattiveria. No, no, immagino. Ripeta. Cosa? Io sono una persona disdicevole. Lo ripeta. Adesso? Io, Polcinski. Krzysztof. Krzysztof. Sono una persona disdicevole. Io, Krzysztof, Polcinski, sono una persona disdicevole. Non solo dimentichi mai. Ora posso andare? No. Prima.